Attenzione, quello che segue è un video interattivo. Avrete la possibilità di cambiare visione della telecamera cliccando semplicemente nel riquadro che comparirà in basso a destra o a sinistra. Questa funzione non è valida da smartphone o tablet, ma solo esclusiva da PC o da quello schifo di Mac. Se non state visionando questo video da PC o da quello schifo di Mac, potete sempre cambiare inquadratura seguendo il link in descrizione, oppure a fregarvene e godervi video come sempre. Buona visione! Siamo qua con Voldemort, guardate com'è bello pelatino! Finalmente ti ho trovato! E adesso posso farlo! Al cielo! E vado che culo! Oh! Arianna oggi in versione di Dottoressa Sexy. Che fai Tarka? Ti ripieghiò il culo? Guarda, lo sponsor mi ha chiesto di fare le culo cam, io devo fare quello. Per forza, se no non ci finanzia. Vabbè, fare le culo cam, dai facciamo un intervista con la tua. Come mai vestita così, dai? Dovevo fare coppia con Giada, quindi... Eh? Eh? No, no, il mio culo, il mio culo ce ce riesco! Seriamente facciamo un'intervista seria per una volta. Fai cagare, Focko! Grazie. Resiste. Questo credo sia stato il mio primo videogame sulla Playstation. E tanti punti, eh? No! No! Come si dice? Come si dice? Ciao! Ah, hai ragione, rifamola! Ciao! Salve! Ormai c'è un ombrello, non piove. Eh, perché voglio che venga la pioggia. Certo, così. Come mai steampunk sempre? Perché questo, comunque... Dio! È il cattivo di Roger Rabbit! Sei non vestita? Metal Gear. Sei non è vestita? Eh, nel personaggio. Mezzinudi sti personaggi. Se fosse stata vestita, non l'avreste intervistata. Te sei vestita e pure ti ho intervistato. Dici qualcosa in ciocciare. Ah, allora, dirò una cosa che ho detto a Simone prima, che la sta rivendendo a caso. Che t'apozza... Aspetta, che t'apozza bacia un treno in fronte? Una topa che bacia un treno in fronte? Questa è la mia traduzione. Va con sto imbecille? Col casco così? Va in guerra, vai, sto qui. Te, riflettente, poi... Ma il leoncino! Ha un piccolo leoncino. Scusi, lei? Guarda, 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 guarda che schifo. È la prima che ho fatto. È sbucciato. È il tuo primo cospero. Ma non è il mio primo. È sbucciato, che schifo. È bianco. Che c'è a dire? Guarda, dove? Queste cose. Guarda questi fan che ci fanno le foto qui, guarda. Forza al cedo! Bene, siamo qua con una cornuta. Il ragazzo già lato dentro. Questo si fa di steroidi. Guarda, ho appena finito di iniettare, anzi, se mi vuoi dare una mano con la seringa. Non possiamo parlare di droga su YouTube. No, no, no. Drogato. Infatti, ne... Drogato. 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 Ne parliamo dopo io e te. E why this mucca crow? Apa? Why not? Because everybody loves Apa. Salve, sono qui per associarmi all'associazione culturale al cedo e anche mia madre si associerà. E mia sorella, la marmitta della vostra macchina. Cosa ci fai qua, Abe? Non lo so. Sei? Silica di Sword Art Online. Si? Silica. Silicone. Lo sapevo che l'avresti detto. Siliconata. Ci avete te rifatte di silicone? Siamo qua con Giada Robby, ma dove sono le tette? Eh, dove sono le tette? Dove le hai lasciate? Eh, non lo so. Valla a prendere, vai. Eccole! Entra nel personaggio e quindi non pare, non fa nulla, però guardate. Quando ridono, muove il culo così, sembra che stai ridendo il culo, te lo giuro. Non capisco se si voglia accoppiarmi con me, tipo di ma... Oh, non puoi mangiarlo, oh! È crudo, cosa mangi? Oh! Fuffì! Perché non può mangiare? Perché è crudo! Non l'ho tutto visto. È crudo! Ci fai un'intervista, gatto? Miau. Un'intervista più di miau? Miau. Allora, nessuno sa di che colore sono gli occhi di Giada? Zoom sugli occhi, per favore. Sugli occhi! Su, gli occhi, su! Come puoi vedere, oggi c'è poca gente, perché abbiamo sparso la voce che Dado ha ebola. E quindi non c'è più nessuno. C'è ebola. C'è ebola. Ebola. È un gattile. Ristorante cinese. Miau. Oh, siamo qui con una bellissima ragazza. Diciamo una via di mezzo. Come mai mi hai copiato il naso? Giretti di là? Se permetti, è un profilo importante. Ti do 30 secondi per spiegare il vostro progetto. Proprio veloce. Allora, Inizium è una fan web serie che nasce all'universo espanso di Harry Potter. tratterà della prima guerra del mondo magico contro Voldemort. Ed è una figata. Ma che faccia a culo che c'ha questa? Anche quella sotto, eh? Anche quella sotto. La faccia a culo. Sei arrivato a un punto che la gente si insulta da sola. Dovete dirmi se è più lunga la sua lingua? O la sua? Qua sotto nei commenti. Come mai sei vestito da pisello? Perché oggi mi sentivo un po' triste. Si sente una sega. Non è colpa mia. Dio buono sì. Dio buono sì. Cazzo sì. Cazzo sì boia. Ma mi spieghi che cazzo era quella all'inizio? Che parlava. Quegli imbecile di Fuokiko. Cioè stanno youtuber da quattro soldi. No, c'è Fuokiko. No, però al cielo non me le devi fare queste cose qui, capito? Anche qui? Anche a questa fiera? Ma la devi smettere di prendermi in giro, va bene? E ovunque. Sì, e continua a essere un. Vai ciao con la mano! Vi ricordo che se volete sostenereci potete comunque donare qualcosa al link di Patreon. Link in descrizione. Ah già, il link è in descrizione. Link in descrizione. Link in descrizione. Link in descrizione. Se vuoi aiutarci a crescere, lascia un mi piace e condividi il video. Non perderti il backstage in uscita nei prossimi giorni. E in descrizione troverai tutti i link, cazzate varie e tutto quello che può servirti per farti un pochino di cultura. Grazie per la visualizzazione. Grazie per la visualizzazione. Grazie per la visualizzazione. Grazie per la visualizzazione.